Siamo a Guardiagrele, nel bellissimo chiostro del convento dei Frati Minori Cappuccini, insieme al comitato spontaneo che dice no alla chiusura di questo convento. Paolo Rullo, lei è capo di questo comitato. Che cosa è accaduto? È accaduto che i Frati Minori Cappuccini a livello provinciale, e il provinciale diciamo è quello che si occupa di tutti i frati della regione Abruzzo, sono costretti purtroppo a ridimensionare le loro attività per mancanza di vocazioni. E questo a noi non ci sta bene. Non ci sta bene perché vorremmo che i Frati Minori Cappuccini restino a Guardiagrele da oltre 500 anni, che sono oramai radicati, e i nostri avi, e noi, e i nostri figli, che frequentiamo, e tutta Guardiagrele, e i paesi limitrofi frequentano questo convento. Vorremmo un piccolo ripensamento perché i Frati da Guardiagrele non se ne devono andare, devono rimanere. Voi state raccogliendo anche delle firme? Stiamo raccogliendo delle firme sia sul cartaceo che online, e abbiamo avuto tantissime adesioni. Pensi che in 24 ore, quelle online, abbiamo raccolto già oltre mille firme, quindi in pochissimo tempo, perché tutti sono legati in un modo o nell'altro ai Frati Cappuccini di Guardiagrele. Sindaco Donatello Di Prinzi è un luogo caro ai guardiesi, e nessuno ci vuole rinunciare. Sì, certo, e caro ai guardiesi, caro a me personalmente, caro alla comunità del territorio, perché è un punto di riferimento per molti cittadini, non solo di Guardiagrele. Pensare che i ragazzi e gli scout raggruppano oltre 70 ragazzi che vengono anche dai comuni vicini. Questa notizia ci ha lasciato un po' scioccati tutti quanti, perché è venuto così. Sì, ogni tanto si vocifera, però non è mai arrivato in questo modo così deciso. Abbiamo chiesto al padre provinciale, siamo andati in visita un mese fa, per cercare di convincerlo comunque di trovare una soluzione diversa, perché sì, c'è la mancanza di vocazione, ma penso che ridistribuendo le forze e anche vedendo quali sono i conventi da chiudere, si possa ragionare in maniera seria e corretta. Guardiagrele vive con i frati, con il francescanesimo da centinaia di anni. Non possiamo rinunciare, anche perché non è un convento fine a se stesso, ma è un convento che ha unito la città ed è attivo in tutti i sensi. Quindi chiediamo con forza e con educazione che ci sia un ripensamento, una riflessione e siamo disposti a collaborare anche per riflettere in tal senso. Lo abbiamo preso in Consiglio Comunale in delibera all'unanimità e abbiamo chiesto anche ai comuni vicini di dare la loro voce. Hanno tutti quanti aderito e speriamo che il padre provinciale possa rivedere un po' all'interno del Consiglio questa decisione e continuare a vivere guardiagrele insieme ai frati anche nel prossimo futuro.